Nuovo appuntamento, resoconto dei nostri investimenti per quanto riguarda il mese di marzo 2020, quindi andremo a vedere in questo video tutte quelle che sono stati i nostri acquisti, eventualmente le nostre vendite, i dividendi incassati ma andiamo poi nel dettaglio del nostro portafoglio per andare ad analizzare tutte le posizioni, quindi come sono messe ogni singola azienda, siamo in perdita o siamo in guadagno, il rendimento totale del nostro portafoglio come è suddiviso in percentuale per ogni azienda, quindi qual è il peso di ogni azienda attualmente con le quotazioni attuali all'interno del portafoglio di vivere di dividendi e ovviamente andremo a parlare anche dei dividendi che abbiamo incassato nell'ultimo mese ma non solo, anche del rendimento totale dei dividendi nel portafoglio quindi tante informazioni, tanta carne al fuoco, spostiamoci subito a schermo e andiamo appunto a vedere e andiamo subito nel dettaglio di cosa è successo nell'ultimo mese, un resoconto totale dell'intero portafoglio stiamo ovviamente sul sito vivere di dividendi.it, stiamo appunto parlando del mese di aprile quindi facciamo il resoconto su tutte quelle che sono state le operazioni concluse a marzo nel mese di marzo infatti abbiamo effettuato due acquisti e abbiamo acquistato Ini e Gazprom entrambe le aziende ovviamente trovate sul canale il video con l'analisi fondamentale per entrambe le aziende e abbiamo effettuato questi acquisti all'inizio di marzo, il 9 marzo, nello stesso giorno ed è stato tra l'altro il giorno in cui abbiamo avuto il primo del crollo del prezzo del petrolio infatti andiamo a vedere tra un attimo un prezzo del petrolio che è crollato in maniera vertiginosa e ci ha dato la possibilità ovviamente portandosi dietro anche il prezzo di tutte le aziende connesse con il petrolio ci ha dato la possibilità di acquistare ad un prezzo molto basso ovviamente sia Ini che Gazprom abbiamo se ci seguite ovviamente sul canale youtube ma anche su tutti gli altri social ogni volta che effettuiamo un'operazione siete ovviamente informati quasi in tempo reale quindi se non l'avete ancora fatto iscrivetevi soprattutto su Instagram, su Facebook ma anche su TikTok perché vengono postate quasi in tempo reale tutti i nostri movimenti quindi andiamo un attimino a vedere Ini acquistata appunto il 9 di marzo, prezzo di acquisto 8,40 euro e l'ultimo dividendo staccato da Ini era pari, è stato pari a 0,86 euro tra l'altro un dividendo che l'azienda ha confermato nonostante tutte le difficoltà e il prezzo basso del petrolio che ovviamente metterà in serie difficoltà i conti dell'azienda quindi questo ci porterà a un dividendo del 10,2% davvero molto molto alto e Ini entra all'interno del nostro portafoglio con una percentuale lo vedremo tra un attimo nell'intero portafoglio del 2,76% quindi comunque una quota non tanto grande perché comunque un'azienda che andate a vedere il video sull'analisi fondamentale dell'azienda comunque ha dei fondamentali che non sono se vogliamo perfetti comunque c'è grande rischio dietro e non abbiamo voluto ampliare la posizione in maniera molto molto forte cosa che invece abbiamo fatto per quanto riguarda Gazprom dove invece ci sono dei fondamentali anche un po' più robusti anzi vi lascio qui sopra linkato il video dove abbiamo fatto il paragone di tutte le 8 maggiori società del petrolio quindi potete andare a vedere quali sono i vari dati di bilancio paragonati tutte le aziende e appunto la nostra scelta, la nostra se vogliamo prima scelta è Gazprom anche in questo caso acquisto fatto il 9 di marzo acquistato a 3,98€ con un ultimo dividendo staccato del 0,44€ anche qui abbiamo un rendimento molto molto alto dell'11% è una percentuale in portafoglio che è cresciuta al 7,83% quindi è un'azienda dove stiamo comunque continuando ad acquistare se avete visto i video precedenti sapete già che questo è già il terzo acquisto che facciamo su Gazprom come anticipato abbiamo, siamo entrati nel, abbiamo rafforzato la nostra posizione nel settore petrolifero andando appunto a sfruttare questo crollo vertiginoso appunto del prezzo del petrolio per le nuote vicende politiche che sappiamo tanti di voi in questo periodo mi hanno chiesto come fare ad investire sul prezzo del petrolio ovviamente riferendosi ai vari ETC o eventualmente ETF che ricalcano l'andamento del prezzo del petrolio la mia opinione in questo caso o almeno la mia scelta è stata non investire direttamente sul prezzo del petrolio ma appunto andare ad investire nelle aziende correlate al prezzo del petrolio per un motivo molto semplice perché l'azienda comunque ha un business alle spalle ha un flusso di cassa, in questo caso i dividendi che vengono erogati annualmente o due volte l'anno o quattro volte l'anno in funzione dell'azienda mentre il petrolio se incompriamo la materia prima stiamo puntando più ad un aspetto speculativo ovvero cercare di comprare un determinato prezzo per rivendere un prezzo più alto perché ovviamente il petrolio non ha dei flussi di cassa non ci dà delle cedole, non ci dà dei dividendi quindi la mia scelta è stata appunto quella di continuare ad ampliare le posizioni sulle aziende relative legate appunto al petrolio ma andiamo avanti, vediamo quindi quali sono stati invece i dividendi che abbiamo incassato nel mese di marzo abbiamo incassato il dividendo di Intel un'altra azienda già presente all'interno del nostro portafoglio ovviamente anche qui trovate sul canale il video con l'analisi fondamentale della società il dividendo appunto ci è stato pagato a marzo il nostro prezzo di acquisto su Intel è stato di 46,17 il dividendo staccato è di 0,33 ad azione questo dividendo ovviamente viene pagato 4 volte l'anno normalmente le aziende americane pagano 4 volte l'anno e ci dà un rendimento da dividendo di 2,80% in funzione del nostro prezzo di acquisto a 46,17 vedremo che Intel andiamo a vedere tra un attimo ha una posizione molto molto importante nel nostro portafoglio siamo all'11,5% vediamo se questo dividendo è stabile o comunque può essere ancora garantito da questa società in questo grafico appunto vediamo sia il livello dei dividendi con le colonne verdi quindi vediamo come il dividendo sia cresciuto a 1,32 adesso partendo da 1,28 dell'anno scorso e quindi abbiamo un dividendo che comunque in crescita dal 2015 al 2020 comunque continua a crescere in maniera costante ma la notizia più rilevante è che soprattutto il payout è calato notevolmente perché ci sono stati vedendo il link il video su Intel potete vedere come c'è stato un aumento netto degli utili della società quindi il payout siamo a livelli molto bassi siamo intorno al 28% attualmente quindi è un dividendo che molto probabilmente continuerà a crescere quindi il nostro rendimento questo 2,8 tendenzialmente nel futuro continuerà a crescere presto supererà il 3% proprio perché il dividendo continua a crescere ovviamente qui abbiamo il comprando in questo momento partiremmo da circa il 2,54% con le quotazioni attuali anche Intel come vedremo tra un attimo ha sofferto molto dell'abbassamento di prezzo quindi può essere ancora una buona occasione di ingresso su questa società se la tipologia di business e il profilo di rischio è adatto ovviamente al vostro portafoglio è stato pagato anche il dividendo di Carnival un'azienda davvero sotto i riflettori in questo periodo perché c'è stato un crollo verticale del prezzo ha dovuto ovviamente alle note cause che hanno scatenato la crisi ovviamente sul mercato questa azienda da noi era stata comprata a 33,12 pound in questo caso perché l'abbiamo acquistata sulla borsa di Londra l'ultimo dividendo pagato è un dividendo a 0,39 questi sono pound qui c'è un errore 0,39 ci dà un rendimento al 4,7% quindi avevamo già un alto rendimento adesso che il prezzo è crollato andiamo a vedere come comprando in questo momento teoricamente avremmo un rendimento al 23,8% ma ovviamente ci sono grandi possibilità serie possibilità che questo dividendo venga forse completamente annullato comunque notevolmente ridotto perché? perché ovviamente abbiamo sì uno storico in crescita la società stava comunque andando molto bene ha dei fondamentali molto strutturati anche in questo caso trovate il video sull'analisi fondamentale della società il payout non era successivo eravamo un payout intorno al 46% quindi era assolutamente sostenibile anzi ci dava la possibilità di eventualmente continuare a crescere ma ovviamente adesso con il fermo che c'è stato delle navi da crociera ma in generale delle attività produttive del turismo ovviamente l'azienda non sta fatturando quindi molto probabilmente andrà a tagliare questo dividendo quindi non ci vedremo più erogare una cifra così alta pari a in questo caso a noi al 4,7% ma molto probabilmente verrà diminuito gli analisti ci dicono che da 2 dollari in questo caso il dividendo possa molto probabilmente passare a 1,50$ quindi una riduzione neanche tanto importante ritorniamo ai livelli del 2017 ma mia opinione personale può essere tagliato molto di più può essere anche addirittura abbiamo anche il rischio che venga completamente annullato molti mi chiedono se c'è il rischio che l'azienda possa addirittura fallire secondo me ripeto una mia personale opinione ma non credo che l'azienda vada incontro al fallimento almeno non nella situazione in cui siamo in questo momento o comunque non se questa situazione di chiusura sarà risolta nei prossimi anche 2-3 mesi magari sarà impattata anche la stagione estiva che ovviamente per Carnival è molto molto importante fa tanta parte del suo fatturato ma allo stato attuale non dovrebbe esserci rischio fallimento ovviamente prendete con le dovute precauzioni queste informazioni perché ovviamente sono delle mie opinioni assolutamente personale non sono assolutamente dei consigli ad investire quindi appunto fate le vostre ricerche fate i vostri studi prima di prendere qualsiasi decisione ci lascia comunque dello spazio per eventualmente continuare ad investire in questa società perché comunque adesso abbiamo un prezzo davvero davvero molto molto basso quindi il PE credo se vado a memoria è intorno a 2 in questo momento quindi comunque l'azienda ha un prezzo è quotato adesso un prezzo molto molto basso a causa appunto degli alti rischi legati a questo tipo di business in questo momento storico comunque attualmente abbiamo incasato il dividendo normale quindi staremo a vedere tra 3 mesi perché Carnival paga ogni 3 mesi cosa si deciderà il management se taglierà o meno questo dividendo passiamo oltre e facciamo quindi un resoconto totale su quello che è lo stato di tutte le aziende del nostro portafoglio ovviamente un portafoglio è stato tanto impattato dalle profonde crisi discesa del mercato in questo periodo c'era addirittura volevo portarvi l'esempio di Albemarle dove a febbraio avevamo un più 23% e siamo passati a un meno 16 di marzo quindi abbiamo una perdita di circa il 40% su Albemarle ci sono state delle perdi anche molto molto importanti la stessa Carnival siamo a meno 73% sul nostro prezzo di acquisto ma la stessa Gazprom inizialmente eravamo a meno 70% poi ovviamente avendo comprato ad un valore più basso abbiamo diciamo mediato il nostro prezzo di ingresso è stato mediato anche la nostra perda adesso al 31% comunque tutte le aziende sono state pesantemente impattate le uniche che ribangono ancora positive sono proprio Intel e Bristol Mayer che avevano comunque delle posizioni anche positive a febbraio quindi hanno risentito di meno di questo impatto del mercato vediamo come anche Eni abbia avuto anche un aumento di prezzo in questo caso ci porta un appunto un guadagno del 9,5% mentre tutte le altre hanno comunque risentito in maniera anche pesante del crollo del mercato ma in generale è data la diversificazione al portafoglio che andiamo a vedere tra un attimo possiamo vedere che come rendimento totale a livello di portafoglio nonostante queste pesanti perde anche al 70% il ritorno totale del nostro portafoglio è ancora un meno 16 quindi ovviamente come al solito non è vero che singolarmente ci possono essere dei problemi specifici molto forti però dipende ovviamente anche dalla diversificazione che abbiamo in portafoglio e dal piso di ogni azienda lo vediamo tra un attimo quindi il totale siamo ancora a meno 16 quindi comunque una perdita assolutamente accettabile e in linea con quella che è stata la riduzione del mercato perché l'S&P 500 comunque è sceso di più di 20 punti percentuali quindi comunque abbiamo un andamento del nostro portafoglio anche in linea se non leggermente sovraperformante ma diciamo che non è questo l'importante perché ovviamente questo portafoglio è costruito viene costruito mese per mese per un orizzonte di lunghissimo termine quindi questa analisi mensile viene fatta più che altro a scopo ovviamente formativo per condividere con voi quelle che sono quello che è lo stato del portafoglio avere anche i vostri pareri le vostre opinioni discutere anche su come si andiamo a calcolare questi dati quindi è più a scopo formativo piuttosto che andare a vedere se mese per mese stiamo guadagnando o perdendo non ha molto senso dato che il portafoglio è costruito per un orizzonte temporale molto lungo anche a 20 anni quindi andare a vedere cosa succede ogni mese diciamo che non è preponderante in questo caso ma siamo comunque contenti che abbiamo stiamo adesso con una perdita del 16% che è assolutamente in linea con quello che è l'andamento del mercato andremo ovviamente a fare degli altri acquisti adesso a marzo facciamo un acquisto ogni mese quindi anche a marzo verrà effettuata la nostra quota di acquisto della quale ovviamente vi renderemo assolutamente partecipi non appena la eseguiremo vediamo quindi come vi anticipavo come è distribuito il portafoglio vediamo che proprio le aziende come Amazon Bristol Mayer Intel Google che sono quelle che hanno perso meno infatti vediamo Amazon è abbastanza stabile rimane al 2% Bristol Intel sono in guadagno quindi le Alphabet che sarebbe Google è a solo meno 3,8 vediamo come le principali aziende che sono quelle che poi fanno praticamente quasi la metà dell'intero portafoglio sono quelle che stanno reggendo meglio il crollo del mercato quindi praticamente sono quelle che appunto hanno permesso di mantenere una perdita appunto non troppo elevata sono le aziende che stanno performando meglio mentre altre aziende come per esempio proprio East West Bank era il numero 1 del nostro portafoglio con una percentuale del 10,5% dato che ha perso circa il 40% è scesa all'8,3 quindi comunque ha perso diverse posizioni e un crollo drastico drastico ovviamente e ha avuto Carnival che anche qui era circa il 10% del nostro portafoglio e adesso è addirittura al 2,9% del portafoglio quindi una perdita davvero davvero importante per Carnival stiamo invece come abbiamo già detto aumentando le nostre posizioni su Gazprom che sale dai 5,6 al 7,8 vogliamo ancora eventualmente continuare ad accumulare su Gazprom è un'azienda su Granite che vedremo nelle prime posizioni del nostro portafoglio chiudiamo questa analisi andando a vedere cosa è successo per quanto riguarda il resoconto dei dividendi per quanto riguarda l'intiro portafoglio ovviamente questa era la situazione di febbraio questa è quella di marzo a marzo cosa è cambiato rispetto a febbraio ovviamente abbiamo introdotto Ini che è il nostro nuovo acquisto che è entrata con appunto un dividendo del 10,24% quindi ha dato un bel impulso ai dividendi del portafoglio abbiamo visto che Intel ha aumentato il suo dividendo quindi siamo passati dal 2,77% al 2,86% ed è molto probabilmente come abbiamo visto un numero che andrà ad aumentare nei prossimi mesi nei prossimi anni e ovviamente abbiamo è variata anche la condizione di Gazprom che per la quale avevamo un dividendo al 6,21% adesso avendo comprato ad un prezzo ovviamente più basso è aumentata anche dal nostro rendimento dal dividendo e siamo passati al 7,21% e questo ovviamente ha avuto un impatto positivo per quello che è il rendimento totale del nostro portafoglio infatti siamo passati dal 2,88% di febbraio al 3,16% quindi abbiamo finalmente superato quota 3% per quanto riguarda il dividendo totale su marzo ovviamente questa è la parte più importante più rilevante per quanto ci riguarda perché ovviamente è la parte che ci garantisce la nostra rendita la nostra rendita mensile la nostra rendita manuale quella è la parte che appunto andrà a vogliamo crearci la nostra rendita finanziaria e quindi è comunque una parte che se abbiamo selezionato bene le nostre aziende e queste aziende continuano come nel caso di Intel ad aumentare il loro dividendo nel tempo questi numeri continuano ad aumentare il nostro rendimento totale continuerà ad aumentare ovviamente il portafoglio è molto giovane ha meno di un anno di vita abbiamo cominciato a crearlo a maggio del 2019 quindi partiamo con un 3% abbiamo appena superato il 3% quindi punteremo sicuramente ad arrivare in un orizzonte temporale medio lungo sul almeno il 5% di rendimento fatemi sapere quindi come state gestendo le vostre posizioni se avete ottenuto dei risultati simili o migliori come li avete ottenuti soprattutto e su quali sono le caratteristiche fondamentali sulle quali state costruendo il vostro personale portafoglio aspetto i vostri commenti ovviamente qui sotto al video riempitemi di commenti perché ovviamente rispondiamo a tutti i commenti e molti di questi quando sono rilevanti per tutta la community cerchiamo anche ovviamente di farci dei video dedicati per condividere con tutti le risposte ciao e buon dividendo a tutti